Ciao a tutti dal Salutatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con il grande Tommaso dei Perturbazioni con tante sorprese, ciao! Ciao, un saluto, un salutone! Saludiamo tutti i vostri fans che aumentano sempre! Ma sì, dici, io ci credo allora, va bene! Vogliamo anticipare le news? Ma disco nuovo, le storie che ci raccontiamo, uscito a gennaio, lo stiamo portando in giro, tour in primavera, tour in estate, sogniamo con Andrea Mirò, la grandissima, che è la quinta perturbata con noi sul palco, sogniamo anche le sue canzoni nuove del disco che è appena uscito, nessuna paura di vivere, quindi siamo contenti, un bel mestiere, la mia fortuna! Alla grande, siete fortissimi, faccio i complimenti e salutiamo ovviamente tutti i vostri fans, un saluto perturbato! Un saluto perturbato dai salutatori! Ciao, un salutatore Tommaso, grande, ciao! Grazie!